Potrebbe essere stato doloso l'incendio divampato due giorni fa alla Isolbit, azienda di Villanova di Cepagatti specializzata in recupero e riciclo della plastica. Seppur neghino di aver ricevuto minacce, i titolari sono convinti che le fiamme non siano state accidentali. Gli investigatori finora hanno appurato che l'incendio sarebbe scaturito dalla parte posteriore del capannone, da una zona adiacente alla fabbrica e non quindi dal suo interno. Della struttura non rimane che lo scheletro consumato dal rogo. Molta paura per l'inquietante nube nera che si è sollevata dalla combustione dei materiali plastici, che era visibile a diversi chilometri di distanza. L'Arta però, l'Agenzia regionale per la tutela ambientale, ha escluso la presenza fuori norma di benzene e diossina nell'aria, seppur permanga il divieto in zona di servirsi dell'acqua dei pozzi e di raccogliere e consumare frutta e verdura. E il WWF rilancia, le aziende che si occupano dei rifiuti devono essere ispezionate e limitate le emissioni, ha dichiarato l'organizzazione non governativa. Rimane ora l'amarezza dei titolari e le preoccupazioni dei circa 15 dipendenti, che insieme all'azienda hanno visto andare in fumo il proprio posto di lavoro.